Le donne è pomo della discordia ad Atena Lucana. Nel consiglio comunale di ieri lo scontro tra maggioranza ed opposizione si è concentrato sulla parità di genere con le parti arroccate sulle loro diverse posizioni. Tra gli argomenti all'ordine del giorno infatti c'era anche il rispetto della legge 215 del 2012. Secondo i gruppi di minoranza la composizione della giunta tutta maschile poiché formata oltre che dal sindaco Iuzzolino, dal vice annunziata e dall'assessore caporale non rispetterebbe la pari rappresentanza di genere e dunque andrebbe modificata permettendo l'accesso all'unica donna eletta nella maggioranza. La norma doveva essere applicata entro lo scorso 27 giugno, ha obiettato durante la seduta il consigliere di minoranza Francesco Manzolillo, ma è stata disattesa. Non è un caso che il consiglio venga convocato a mezzogiorno impedendone la partecipazione ai cittadini. Questo è dettato dalle difficoltà politiche che la maggioranza è chiamata ad affrontare, come sulla discussione relativa alla formazione della giunta. Secca la replica da parte della maggioranza. Non c'è ancora pervenuta alcuna circolare dal prefetto che si esprima sulle modalità di composizione della giunta, hanno detto durante il consesso. È tutto in regola. La scelta poi di convocare il consiglio a mezzogiorno va nell'ottica del risparmio economico. Tra gli argomenti in discussione c'era l'approvazione di regolamenti per cui è necessaria la presenza dei funzionari e a mezzogiorno questi sono in servizio e non deve essere pagato loro lo straordinario. Diverso è quando invece si svolgeranno consigli relativi alla programmazione politica. Lì l'orario potrà essere differente.